basta, firma se quando vuoi guido te la farò provare, dai dai giù che abbia il calcio guarda che cazzo? hai visto? come arriva? sta andando ecco allora lì si sporca qua andate a cagare va si sporca qua dove stai? hai giocattolo nuovo tu sei capace io hai giocattolo nuovo? vai lì bravo oh vuoi che c'era un uomo uguale c'è un uomo uguale uguale allora è bene cosa vuoi dire che la gamba lunga è buono è buono infatti questa è venuta qua perché volo la mia vecchia ma non voglio tagliare di parafacchi no sta arrivando una gara dai che bisogna capire le plastiche guarda 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 è puoi aspettare è puoi aspettare eh mi hanno messo a d'acqua guarda 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.